Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube. Siamo al 29 di dicembre, quindi l'anno è quasi finito. Domani però gioca la Juventus, ultimo test amichevole, prima della partita ufficiale che andremo a giocare il 4 di gennaio con la Cremonese. E quindi iniziamo un po' a vedere tutte le facce rientrate a Torino. Quindi partiamo da un discorso in realtà che arriva da ieri, però viene confermato oggi perché Rabiot è arrivato a Torino e è tornato alla continassa a lavorare, ad allenarsi e come stiamo leggendo in realtà anche altri giocatori che hanno disputato la finale del Mondiale in Qatar e che giocano in Serie A sono rientrati o stanno rientrando come Dybala e come Lautaro per essere a disposizione degli allenatori per la prima giornata di campionato. Gli altri due che non rientreranno oggi come Rabiot o prestissimo come Dybala e come Lautaro sono appunto di Maria e Paredes che rientreranno il 2 di gennaio. Ora piccola parentesi perché su YouTube non avevamo ancora parlato, non è una polemica, è soltanto un opinione personale. A me da tifoso, devo dire la verità, ha dato leggermente fastidio questa cosa, mi ha dato leggermente fastidio perché è vero che hai dei giorni di fere concordati con la società, ma è anche vero che dall'altra parte come stanno tornando prima, come si stanno tagliando le vacanze altri calciatori per essere a disposizione per un impegno imminente di campionato da parte del club che ti paga lo stipendio probabilmente un paio di giorni in più di vacanza si poteva rinunciare per essere a disposizione appunto del club, dell'allenatore e dei tifosi, di tutti quelli che riguardano la Juventus perché io ricordo quando Di Maria si metteva la faccina, che si metteva la mano in faccia perché si diceva che avrebbero chiesto dei giorni in più alla Juventus per preparare il mondiale e quindi saltare Juventus-Lazio e c'è la fake news. Sembrava quasi, ma secondo voi io faccio una roba del general club. Devo dire la verità, il comportamento di questi due calciatori che comunque hanno pieno diritto, hanno assolutamente pieno diritto di fare quello che vogliono, però dall'altra parte io da tifoso penso di avere comunque pieno diritto a dire che un pochino mi dà fastidio perché quasi tutti i calciatori che hanno giocato alla finale sono tornati, quasi tutti i calciatori che hanno giocato alla finale hanno rinunciato a un paio di giorni, non vedo perché gli altri non dovrebbero farlo poi ripeto, liberi di farlo, però anch'io libero da tifoso di dire ragazzi miei, però una certa bisognerebbe anche pensare al club nel quale stai giocando e che appunto ti paga lo stipendio quindi populismo, non populismo, semplice opinione, personale, considerazione, lettura, possono farlo tranquillamente, assolutamente sì, così come io posso dire probabilmente si potrebbe fare qualcosa di diverso qualcuno mi ha fatto notare che è la stessa cosa di un'azienda normale, quindi della gente comune sì, però a me è capitato di mettere giù delle ferie tante volte nella mia vita e che poi mi dicessero no guarda questo giorno o comunque questi giorni devi slittarli, cambiarli, modificarli, ridurli perché abbiamo un altro impegno lavorativo e lo si fa e credo che una partita di campionato di Serie A sia considerabile un impegno lavorativo a tutti gli effetti, quindi è vero che funziona come le persone comuni, però le persone comuni o almeno a me è capitato di dover dire va bene, rinuncio magari a questo giorno di vacanza che era già stato concordato perché il lavoro chiama e quindi facciamo così poi ribadisco, semplice posizione, non è una polemica, non è una voglia di puntare il dito è semplicemente che succedono le cose, le commentiamo e diamo un nostro riscontro però ieri parlavamo anche di McAllister e dicevo secondo me la Juventus in questo momento non può permetterselo, credo che sia un giocatore abbastanza costoso un giocatore che si è messo in risalto durante il mondiale, un giocatore forse anche che giochi in un ruolo dove non abbiamo immediato bisogno, invece a quanto pare, poi anche qui prendiamola con le pinze perché l'altro giorno si parlava di Iscovedera Sport Mediaset e vi dicevo ma ragazzi credo che sia un pezzo che Sport Mediaset non becca un'esclusiva di calcio mercato oggi invece ne parla la Gazzetta come ne parlava ieri ma oggi spinge, non è che fa solo il nome come era successo ieri dice McAllister avrebbe detto sì alla Juventus c'è l'interesse da parte del calciatore di trasferirsi alla Juventus meta è graditissima, quindi un altro argentino dato che abbiamo parlato degli argentini prima, un altro campione del mondo se la Juventus e il Brighton trovano l'accordo economico per il trasferimento del calciatore lui è ben disposto ad andare a Torino wow, devo dire la verità, come vi dicevo ieri non mi aspettavo eventualmente come non mi aspetto perché adesso non è che è successo chissà che cosa però se ci sono queste descrizioni magari può essere vero ma continuo a non aspettarmi un colpo così costoso a centrocampo da parte della Juventus a gennaio è anche vero che c'è un pezzo che si aggiunge al puzzle oggi si parla anche di un'ipotetica cessione di meccaniche che andrebbe a finanziare appunto l'ingresso di un altro centrocampista e allora in questo caso vi dico, lo comprenderei già di più ma il discorso che vi facevo ieri non è che la Juventus non investe come fanno in Premier la Juventus investe, certo ma prima o dopo o comunque deve farlo in maniera collegata poi deve cedere un pezzo un pezzo pregiato, deve fare cassa abbiamo preso Bremer quest'estate, è vero abbiamo pagato 50 milioni e abbiamo ceduto De Litt abbiamo preso Blaovic, è vero ma abbiamo ceduto Kuluseski e Bentancur tutte le volte che facciamo un ingresso di un certo tipo poi c'è anche una cessione importante quindi bene o male da un po' abbiamo preso i Guain sì ma abbiamo venduto Pogba l'unico, se proprio vogliamo, come eccezione è stato effettivamente Cristiano Ronaldo che è stato un binario parallelo diciamo così che infatti forse ha portato anche a una situazione di incertezza economica che anzi, probabilmente senza il forse che stiamo vivendo tuttora, tutt'oggi e poi siamo stati costretti a cedere vari giocatori come Cansello, Spinazzola, Emmerciano insomma, dopo è stato un bel dispiacere diciamoci la verità abbiamo iniziato un turbine un turbine che ha portato anche alla situazione che viviamo oggi che leggiamo oggi di cui si è parlato nel consiglio di amministrazione della Juventus nell'assemblea delle azioniste e tutto quanto insomma che va anche un po' extra campo ma che è collegato ovviamente a cose che devono avvenire poi sul campo però sempre su Gazzetta leggevo un articolo interessante perché faceva riferimento a tanti giocatori che la Juventus ha comprato a centrocampo quindi adesso voglio farvi qualche nome mi rimetto l'articolo qui davanti e ve lo leggo perché dice da Emre Can a Pogba da Ramsey a Paredes Artur, Locatelli, Rabiot, Zaccaria quanti centrocampisti ha comprato la Juventus negli ultimi anni quando in realtà prima c'era un vero e proprio centrocampo titolare che era Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio quello sapevi che era un centrocampo titolare come lo era Pjanic che dira e invece ora tanti giocatori acquistati a centrocampo ma l'assenza di un centrocampo titolare è vero è vero c'è poco a reagire al centro noi negli ultimi anni abbiamo veramente l'unico vero l'ultimo vero centrocampo titolare di cui ho memoria per la Juventus che poi è rimasto un centrocampo titolare è Pjanic, Chedira e Matuidi che sono stati centrocampo titolare sia con Allegri sia con Sarri perché poi dalla seconda parte di stagione in poi con Sarri è iniziato ad entrare Rabiot è iniziato ad entrare Bentancur poi con Pirlo sono entrati McKennie Ramsey Artur poi l'anno scorso con Allegri Locatelli poi a gennaio è arrivato Zaccaria però poi non si è fatto giocare quell'altro quest'anno ne abbiamo presi altri anche quest'anno abbiamo comprato dei giocatori ma non solo Pogba, Paredes non solo ci sono Locatelli, Fagioli e Miretti che sono venuti fuori quindi è vero oggi sembra che la Juventus abbia trovato un centrocampo titolare che è Locatelli Rabiot e Fagioli che nelle sei vittorie consecutive quasi sempre o comunque spesso sono stati loro i tre centrocampi quindi da quel punto di vista la Juve sembrerebbe aver trovato però dall'altra parte vi dico Rabiot è un giocatore in scadenza addirittura un giocatore che potrebbe partire già a gennaio per essere monetizzato Pogba comunque dovrà entrare immagino all'interno di un'idea di titolarità della Juventus perché se no è stato acquistato per niente però dall'altra parte Fagioli sta facendo molto bene forse Miretti in questo momento è un po' in calo ma forse più che fisico psicologico ma ci sta classe 2003 fa vent'anni con l'anno nuovo quindi direi sfido tutti quelli che sono passati per i vent'anni a ricordarsi come erano a vent'anni sicuramente non si aveva la capacità di poter giocare all'Iventus dal punto di vista mentale dal punto di vista tecnico e fisico quindi direi che quello ci sta però dall'altra parte effettivamente ragazzi noi negli ultimi anni ci stiamo divorando ci stiamo letteralmente divorando i centrocampisti letteralmente divorando i centrocampisti senza mai riuscire ad incastrare è per quello che vi dico cioè io anche quando ieri ho letto McAllister e prima avevo letto Isco va bene sono nomi possono far più o meno bene possono essere più o meno interessanti più o meno appetibili però io continuo a guardare la difesa della Juve continuo a guardare gli esterni della Juve a centrocampio in attacco c'è l'abbondanza ci sono giocatori che rimangano fuori se devo fare il campetto lo schemino 3-5-2 o 4-3-3 c'è abbondanza e dico anche madonna questo qui mi deve rimanere fuori ma se guardo i terzini se giochiamo con la difesa 4 guardo gli esterni se giochiamo con la difesa 3 guardo i difensori centrali in ogni caso e dico mannaggia e dico mannaggia e lo dico forte quindi io capisco cedere McKennie perché c'è abbondanza a centrocampo se poi parte anche Rabiot allora ci sta che tu vada a prendere McAllister però già che lo ha Cremonese con quadrato questi problemi a ginocchio probabilmente dovrà giocarci su lei in quella posizione di campo o forse Barbieri capite bene che iniziamo a essere poi se vogliono mettere Barbieri o su lei al centro del progetto in quella posizione o vogliono provare per me su lei in quella posizione fa fatica Barbieri è già più idoneo piuttosto che andare sul mercato va benissimo non è che va bene va benissimo però dietro ragazzi almeno un difensore in più ci vuole almeno un difensore in più ci vuole perché la nostra difesa centrale in questo momento è Bonucci Bremmer Rugani e Gatti se giochiamo a 4 se giochiamo a 3 aggiungiamo Alexandro e Danilo sono 6 giocatori di cui l'unico veramente affidabile è Bremmer subito dopo di lui c'è Danilo Gatti è ancora da scoprire Bonucci in fase calante Rugani non vorrei parlarne di Alexandro ne abbiamo già parlato abbastanza va benissimo McAllister se partono due centrocampisti ci sta è assolutamente sensato fai cassa vai a investire cedi un centrocampista che andrebbe via zero prendi un centrocampista che esplosi interessante benissimissimo sarei contentissimo se partono McEnner a più McAllister ha assolutamente senso però se poi invece l'idea è cedo McEnny per prendere McAllister allora ti dico allora faccia una roba cediamo McEnny con quei soldini lì possiamo mettere una toppa dietro perché sennò si inizia a fare fatica questo è un po' secondo me il modo di ragionare in questo momento lato Juve per quella che è la rosa per quella che è stata l'evoluzione del modo di giocare quindi passare da un 4-3-3 a un 3-5-2 e per quelle che sono le esigenze vere proprie di mercato perché sulla destra ripeto Barbieri vice quadrado fino a fine stagione poi quadrado va via dobbiamo organizzare benissimo va bene guarda succede niente a centrocampo ce n'è che non ce n'è che deve non rientrare anche mamma mia davanti mamma mia dietro sembra avete presente il meme del cavallo che è la coda bellissima e poi c'è la faccia che è disegnata male ecco noi siamo siamo fatti al contrario abbiamo una difesa un po' un po' ballerina grazie a tutti